ciao ragazzi ben ritrovati io sono fabrizio e quest'oggi il video per lanciare il remake del campionato principianti che nel 2019 aveva avuto veramente un successo pazzesco più di 60 iscritti e dopo tantissime richieste non potevamo dire di no quindi lanciamo questo campionato che ha come filosofia quella di accogliere tutti quei pilotini in erba quindi se siete pilotiche esperti eccetera ma inutile iscrivervi ragazzi che praticamente vogliono trovare una comunità che li possa accogliere magari dare qualche consiglio per migliorare trovare amici insomma un campionato fatto per unire l'utile al direttevole cioè l'utile è cercare di migliorarsi per una competizione con il quale potersi confrontare con piloti dello stesso livello è direttevole perché trovare amici con cui girare magari anche migliorarsi questa esperienza quella del 2019 è stata veramente fantastica perché come dico praticamente in tutti i miei video mi ha permesso di conoscere le persone veramente fantastiche quindi perché non reiterare questo campionato un ringraziamento particolare va sempre allo stato di sim drivers che si prodiga sempre per l'organizzazione dei campionati e degli eventi e in particolare Aulo Gacciatore che è stato uno dei promotori e che ha disegnato questo progetto di questo remake del campionato dilettanti principianti piloti in erba come volete quindi le iscrizioni sono aperte come si andrà a strutturare il campionato molto semplice e molto simile a quello che abbiamo fatto due anni fa ci sarà un time trial con un algoritmo per la scelta dei piloti che non sarà basata unicamente sul miglior tempo e questo per garantire una certa sicurezza che chi si iscrive a questo campionato sia realmente un pilota in erba quindi ragazzi per più dettagli in merito non esitate www.sindrivers.eu avete tutte le informazioni quindi ragazzi è un campionato dedicato a chi inizia il campionato comunque chi ha un po' di difficoltà per quanto riguarda appunto la simulazione in generale abbiamo pensato a un monte premi veramente molto interessante che diremo quando avremo la selezione dei piloti e quindi ragazzi piloti in erba cosa aspettate non esitate www.sindrivers.eu trovate la locandina in home dove troverete poi il link per potervi andare ad iscrivere mi raccomando leggete i regolamenti come al solito spero che questo remake di questo campionato sia di gravidimento come al solito pollice in su iscrivetevi al canale rimanete sintonizzati noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto ciao